Il problema è che dovevamo mettere qualcosa per i dipendenti, i dipendenti pure stanno senza stipendi, non è soltanto un problema nostro, il problema è anche dei nostri dipendenti perché sono senza stipendi da due mesi e della cassa integrazione non se ne parla e forse chissà quando la prenderanno, è gente che ha famiglie, hanno i mutui, hanno le spese da pagare, come si fa? È assurdo, poi tra l'altro mi stai riprendendo, io ho fatto una proposta al sindaco che mi ha risposto di fare un orario continuato fino alle 3, alle 4 di pomeriggio tutti quanti e poi chiudere tutto, cioè in modo da darci un po' di respiro a tutti, ci dobbiamo spartagliare? Grazie a tutti 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 è così va bene per te ma non va bene per noi hai capito? i vostri studenti vogliamo i vostri soldi politici metteteci soldi vogliamo i vostri soldi non va bene un carto prenderò l'appuntamento che prendono l'appuntamento con il sindaco che fa lo sapere no ma non ce lo devi fare il sindaco non ce lo devi fare il sindaco non ce lo devi fare il sindaco non ce lo devi fare non ce lo devi fare mi fai l'assegno se è arancione se è aperto no sono chiusa dal 7 febbraio e agli occhi del governo il termoli non è chiusa dal 7 febbraio e a noi vi ci aiuta noi abbiamo un soldi credetevi credetevi che comprendo pienamente quello che è la vostra la vostra palestra non avete spesa una parola non avete spesa una parola non avete spesa una parola il sindaco fa solo i posti hanno scari i cabarini io ho fatto questo e ho fatto quell'altro una parola sui commercianti di termoli una parola una ma chi l'ha fatta? dove sta? dove sta la parola? delle sedi opportune si è parlato ma un sostegno su un social un sostegno su una questa domanda non è sui social che si fa ma il sindaco scrive sempre sui social io ho fatto questo e questo ho fatto quell'altro si fa all'interno delle sedi opportune non sui social e che avete fatto? c'è termoli in mezzo molise come avete fatto? scusate hanno riporto tutti molise il governo centrale sa che questi comuni sono ancora uniti sa che dal 8 febbraio siamo tutti non sai vieni io mi spesso speranza non sai vieni e non a dire perché non è è non non noi siamo non ma come quindi si intonete quanteccios Noi abbiamo chiamato e abbiamo detto mi fai l'assegno se è arancione, se è aperto, no, sono chiusa dal 7 febbraio e agli occhi del governo, non è chiusa dal 7 febbraio. E a noi vi ci aiuta? Noi abbiamo un'altra, 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 noi abbiamo un'altra. Non avete scesa una parola, non avete scesa una parola, non avete scesa una parola, il sindaco fa solo i posti, hanno scari i campanini, io ho fatto questo e ho fatto quell'altro, una parola sui commercianti di Termoli, una parola, una. Ma chi la fa? Dove sta? Dove sta la parola? E' un sostegno su un social, un sostegno su me per stare a questo, non è sui social che si fa. Ma il sindaco scrive sempre sui social, io ho fatto questo, ho fatto quell'altro, lo si fa all'interno delle sedi opportune, non sui social. E sapete cosa? C'è Termoli in mezzo a Molise, come ne fa? Scusate, il governo centrale sa che questi comuni sono ancora aiutati, si sa che dal 8 febbraio siamo tutti i nostri, non sa niente, che il ministro Speranza non sa niente. Scusate, il governo centrale sa niente, che il ministro Speranza non sa niente, che il ministro Speranza non sa niente, che il ministro Speranza non sa niente.